Una ragazza. La ragazza è bella, bellissima. La ragazza si chiama Maria. A Maria piace andare alla discoteca. Ogni fine di settimana Maria va alla discoteca. Maria balla molto nella discoteca. Maria va alla discoteca con le sue amiche. Tutte ballano, ballano bene. Tutte sono allegre. Una sera un ragazzo guarda Maria e Maria vede il ragazzo e lo guarda. È bello, balla bene. Maria è nervosa. Parla con le amiche e dice, guardate amiche, un ragazzo mi guarda? Il ragazzo viene qui? Le amiche guardano il ragazzo e vedono che il ragazzo cammina verso le ragazze? Le amiche dicono, sì, sì, il ragazzo viene qui. È molto, molto bello, bellissimo. Maria gira e lo guarda. E il ragazzo le chiede? Balliamo? Maria dice sì. Maria e il ragazzo ballano tutta la notte. Quando la discoteca si chiude, il ragazzo le chiede. Vuoi mangiare? Maria dice sì. Maria e il ragazzo mangiano della pizza a Tinos. Maria e il ragazzo parlano e ridono insieme. Il ragazzo è comico, gentile e intelligente. Il ragazzo cammina con Maria a casa sua. Il ragazzo bacia a Maria. E Maria è molto, molto allegra. Grazie.